Exoratics, oggi abbiamo qui Opel Crossland, un motore 1.5 potec con 110 cavalli di potenza. La troviamo nell'allestimento Elegance con questo fantastico faro a LED. Spostandoci nella parte laterale possiamo trovare questo fantastico cerchio Elegance del raggio di 16. Spostandoci poi nella parte posteriore dell'avventura riusciamo a trovare un serbatoio da 45 litri e un angelesismo di magliaio della capienza di 410 litri, molto profondo. Abbiamo poi sensori di parcheggio, retrocamera e spostandoci nella parte posteriore dell'avventura riusciamo a trovare sedili misto tessuto e pelle con doppio attacco Isofix. Nella parte anteriore della vettura riusciamo a trovare oltre al nostro volante in pelle comodissimi comandi al volante per gestire il cruise control e il nostro smartphone durante le chiamate, schermi notati dal quale gestiamo infotainment totalmente, navigatore, cambio manuale, e freno di stazionamento manuale. La vettura è stata immagricolata a marzo 2021, è alimentata a diesel e ha solamente 30.000 km. Vieni a visionare questa e altre vetture sul nostro sito rattics.com